Premio femminile ragazze, per voi è la nostra Lady del calcio cicliano 2016-2017, a partire al canzolo Rosatea Angelico, la nostra declinanza di ragazza organizzata, la nostra Lady B. Ma intanto, va bene, intanto, andiamo avanti, andiamo avanti, sì, certo, Rosatea, ecco, per favore, Rosatea, qualcosa mi ha detto di non fare domande, che viene e ti faccio domande, però, questo è un premio molto particolare, che segna, perché è premiato dal calcio maschile, e quindi significa che hai vinto una battaglia. La parla! Una guerra, la mia madre! Sì, infatti ringrazio male dopo! Eh, io non conosco la tua famiglia, perché giustamente eravamo andato al palazzuolo, stiamo tutti gli stessi. Tuo padre, cosa ha detto quando l'ha venuto il paletto? Mi sarebbe voluto venire, ma sicuramente non sta bene, nonostante se vedrà poi... Ci sarà la tempica dopo! Sì, certo, ovvio! Grazie, Rosatea Angelico! Applausi! Grazie! Grazie!